allora salve a tutti salve a tutti cari amici sono il ricercatore emiliano babilonia voglio ricordare il mio account pubblico che è emiliano babilonia italia dove potete iscrivervi e mandarmi messaggi tramite messenger voglio ricordare un'altra cosa che tutte le persone che si iscrivono nei miei gruppi tipo siamo tutti cavie o elettro ingegneria clandestina visto che seguono le mie ricerche i miei studi si dovrebbero scrivere anche al canale di youtube angeli custodi mk ultra italia perché se vi iscrivetevi sul canale di youtube angeli custodi mk ultra italia e incomincieremo a diventare nel gruppo più di 10.000 iscritti potremmo incominciare a fare determinate cose tutti quanti insieme avere più visibilità e potremmo avere praticamente la possibilità di divulgare determinate verità scomode attraverso le interviste testimonianza dei target individuals che io ovviamente registro prima ho fatto quattro dirette su youtube e per quattro volte ci sono stati dei problemi di cui due dirette sono state bloccate le frequenze del wifi perché stavo parlando proprio degli ultimi studi che sto facendo riguardo a anomale aduzioni aliene che sembrano più manipolazioni di controllo mentale con il sistema manciurian candidate mk ultra sotto stato di ipnotico radio satellitare che semplice aduzione aliena e non vi spiego perché io sono stato sottoposto dal 10 febbraio del 2001 dopo un anomalo fermo della gendarmeria nera di roma a determinati trattamenti di controllo e manipolazione mentale loro mi facevano credere che io ero una persona con problemi psichiatrici effettuando dei programmi di controllo e lavaggio del cervello con aumento e amplificazione di determinati disturbi all'interno del cervello tutto questo viene fatto per quale motivo perché i servizi segreti deviati devono far credere che noi siamo pazzi malati di mente o addotti dagli alieni o che veniamo microscippati da impianti alieni o che siamo posseduti da satana o che siamo posseduti da entità demoniache fanno tutto questo per deviare la reale tecnologia di controllo e manipolazione mentale che è il sistema radio satellitare una tecnologia in grado di interagire con i centri nervosi centrali e creare dipendenze e patologie programmate attraverso un sistema di arma che permette di interagire con le frequenze dei centri nervosi per pilotare la massa la popolazione attraverso determinati ragionamenti o determinate frequenze o determinate deduzioni programmate dal sistema di controllo deviato sopra istituzionale sono parecchi giorni che stiamo studiando e rivedendo determinate video che sono stati fatti a presunti addotti ma ci siamo accorti che questi addotti dopo dicono che loro vedono militari che loro sentono parlare militari sentono parlare persone militari che conoscono quindi non è possibile che l'alieno viene dall'altra parte della galassia e viene sulla terra e parla in bergamasco oppure un alieno parte dall'altra parte della galassia e mi parla il romanaccio stretto non è possibile questo e la gente dice perché stanno facendo un gemellaggio con persone della terra questi alieni e allora praticamente hanno imparato i dialetti nazionali non è possibile questa cosa queste sono delle stupidaggini delle bufale che vengono dette per raggirare la reale tecnologia di controllo e manipolazione mentale come è possibile che a casa delle vittime quando io ho fatto delle analisi venivano amplificati i campi elettromagnetici da un attacco con arma d'energia diretta d'onda convogliata che c'entra l'alieno lì era giorno non era notte le aduzioni alieni avvengono durante la notte come è possibile che anche a me mi volevano far credere che ero posseduto la satana che erano i miei parenti che mi attaccavano con queste armi che erano entità aliene che erano venute per attaccarmi io dicevo scusa ma l'entità aliena che viene sulla terra ma che ne sa degli avvenimenti della criminalità che ne sa dei creati che vengono fatti dalle persone scusa oppure se io sto prendendo se ho preso una multa o se sono passato davanti a un autovelox non lo possono sapere ma i nuclei operativi speciali deviati lo possono sapere perché è il loro lavoro controllare se noi abbiamo fatto delle infrazioni stradali o se abbiamo fatto dei reati attraverso la manipolazione del ragionamento logico ci creano dei stati ipnotici e narcoletici non ci accorgiamo di fare quella determinata infrazione e loro guadagnano miliardi su questo attraverso miliardi e miliardi di multe che fanno fare a centinaia di milioni di persone ogni giorno in tutte le parti del mondo o nella nazione italiana o in europa oppure vengono immesse delle frequenze all'interno del cervello perché la lepatologia le persone e la scusa che loro trovano è l'adduzione aliena sei stato microcippato dagli alieni e adesso senti le voci o adesso hai questi disturbi sul corpo ma io ho visto su web una marea di bufale di adduzioni aliene che sono proprio delle bufale spiegate e fatti dei video da charlatani che fanno credere che hanno trovato i microchip e che questo microchip aveva l'antennina io ho visto la fotografia del microchip è un semplice diodo zener che lo compie a un negozio di elettronica normale in più alcune alcune persone hanno fatto vedere che sono stati operati all'interno della testa e che hanno fatto vedere gli impianti microchip lo sapete che cos'erano quei microchip erano componenti miniaturizzati presi sui telefonini hanno aperto dei telefonini hanno staccato dei componenti hanno fatto credere che quello era l'impianto io essendo un tecnico mi sono accorto subito che era una bufala perché non è possibile che la stessa fotografia corrisponde fatalità di componenti elettronici che trovi da un semplice negozio di elettronica quindi c'è qualcosa che non quadra abbiamo studiato con determinati ricercatori una cosa molto strana perché chi fa l'ipnosi regressa non usa un elettroencefalografo e non usa determinati tipi di strumentazioni per rilevare o far vedere alle persone che la persona realmente sta entrando in stato ipnotico e fanno addirittura le bufale dirette tramite skype dalla spagna con l'italia e la vittima del controllo mentale no l'adotto deve pagare per fare questa diretta tramite skype 220 dollari più 65 dollari se servono dei supporti aggiuntivi quindi non è un'ipnosi regressa per capire se l'alieno o se hai il microchip e loro addirittura dicono che con la forza del pensiero bruceranno il microchip dopo che gli hai dato 220 dollari 65 dollari per i vari supporti successivi che dovrai praticamente effettuare con questa persona perché se non riesci la prima volta non riesci la seconda volta che hai pagato chi devi dare in continuazione 65 euro per mandare avanti le varie sedute che ti dicono che ti leveranno il microchip che ti leveranno l'adduzione aliena che ti leveranno queste entità demoniache che ti stanno possedendo io vi dico che queste sono truffe e sappiamo bene in italia ci sono state delle persone che tramite la televisione hanno detto che avrebbero curato i cancri con delle erbe con dei talismani con determinati tipi di rituali con vutu e addirittura rinascimento che era questo santone scappato all'estero dopo che avevano truffato 15.000 persone e gli avevano detto che questi rituali avrebbero salvato aiutato le persone e che avrebbero risolto i loro problemi purtroppo il controllo mentale crea dei blocchi celebrati alle vittime e le vittime non sono più in grado di intendere di volere noi abbiamo delle vittime che hanno denunciato i zingari sotto casa che non c'entrano proprio niente col controllo mentale hanno denunciato di essere clonate con le galline quando la gallina muore lei muore anche la persona sono andate addirittura in pronto soccorso hanno detto questa cosa e gli hanno fatto ben due tso per questa per questa cosa che ha detto perché l'hanno presa per una con una persona in stato di delirio e non si può andare al pronto soccorso a dire queste cose oppure non si può andare a determinati nucleo operativi speciali o a determinati luoghi importanti dello stato italiano e dire i manipolatori mi parlano in testa e mi dicono che mi riprendono dentro casa nel letto durante la notte mentre mi faccio 10.000 masturbazioni al giorno cioè non è possibile questa cosa credere una bagianata del genere e purtroppo alcune persone ci credono io adesso ultimamente ho fatto una nuova intervista testimonianza di un ragazzo che gli fanno credere attraverso le manipolazioni del controllo mentale che non sono alieni non so demoni sono solo manipolazioni sono scienziati dei servizi segreti deviati che esperti in manipolazione del ragionamento e del comportamento di un individuo attraverso determinati attacchi fisici e psicologici di torture che è il programma mk ultra manchurian candidate che operano attraverso un sistema di attacco fisico e psicologico all'individuo per fargli cambiare totalmente il ragionamento e farlo diventare totalmente insensibile agli attacchi fisici e psicologici o alle parole che gli vengono dette e come se c'è una persona che in continuazione gli dicono parolacce 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 a un certo punto la persona sabita dice inutile medicina parolacce tanto a me non me ne frega niente allora siccome ci sono stati parecchi errori nella sperimentazione al collaudo delle altre tecnologie dei satelli di spia e delle armi ad energie dirette neuroniche che manipolano i centri nervosi centrali le frequenze dei centri nervosi centrali che si collegano dal mito all'osso al cervello nei numerosi esperimenti che hanno fatto si dovevano inventare le bufale una di queste bufale è l'adduzione aliena mentre i militari facevano gli esperimenti per creare lo stato ipnotico e narcolettico agli individui che dovevano essere sottoposti a questo controllo mentale queste persone durante la sperimentazione di queste tecnologie si sono risvegliate dallo stato ipnotico e hanno incominciato a sentire interagire quello che succedeva e allora siccome hanno sentito magari i militari che parlavano in testa o hanno addirittura potuto riconoscere determinate parole di determinati militari che magari conoscevano pure allora che cosa si sono inventati no se non sei un pazzo se non sei un malato demente se non sei posseduto da satana se non sei posseduto da entità sei addotto dagli alieni e questa è stata una bufala che praticamente ha fatto muovere treni su treni su treni su treni su treni l'altro giorno io stavo parlando con dei ricercatori importanti addirittura con degli esperti e degli ipnotisti che fanno determinati tipi sedute medianiche tante cose particolari nel campo della dell'ipnosi nel pane nel campo del rilassamento delle frequenze cerebrali e io ho detto scusa ma perché voi quando fate l'ipnosi non utilizzate determinati strumenti per vedere se voi veramente scendete in determinate frequenze in stato ipnotico allora loro hanno detto noi lo possiamo fare ma se io ti devo far analizzare una persona che stiamo facendo un determinato tipo di trattamento ipnotico io non ti posso dare la conferma che la persona in realtà scenda in stato ipnotico che ho detto sì ma noi con la strumentazione possiamo vedere se la persona scende nello stato ipnotico perché con l'elettroncefalografo io vedo tutte le frequenze del rilassamento e quando praticamente le frequenze si abbassano la persona non ha più la capacità di interagire direttamente perché entra in uno stato di rilassamento tale che può operare attraverso una sorta di ipnosi regressa ma molti ricercatori importanti ipnotisti importanti non vogliono fare questo perché ovviamente molte ipnosi regresse sono solamente delle bufale create perfettamente a tavolino per esempio c'è una persona un truffatore che sta in spagna che dice che lui fa l'ipnosi regressa attraverso skype e gli devi dare 220 dollari più 65 euro per fare queste ipnosi perché questa persona non ha voluto mai parlare con me per quale motivo questa persona non ha voluto fare un ipnosi regressa visto che veniva fatta tramite skype con le persone che lui diceva che veniva ipnotizzata addirittura ha detto che molte persone non entrano in stato ipnotico perché loro non si vogliono fare ipnotizzare ma come lui fa vedere su ogni video che sono tutti ipnotizzati che sono tutti adotti dagli alieni che tutti quanti gli mettono gli impianti all'interno del cervello con una facilità così estrema io non ho mai visto perché una persona che entra dentro casa ti fa un'operazione da sveglio all'interno del cervello di infila un chip l'impianto dentro il cervello e quando vai a fare una lastra l'isolanza magnetica con frequenze di contrasto non si vede niente nella tacca non si vede niente ma come è possibile scusa la cosa a perché il microchip è alieno allora non si vede no questa è una bufala che ti sta inventando e come la terra piatta a della terra piatta non la vedi perché come fai a vedere la terra piatta coi satelliti ma i satelliti non esistono hai capito le bufale che se inventano per giustificare le altre bufale se le astronavi aliene vengono sulla terra devono venire con dei propulsori motori antigravitazionali astronavi grosse in grado di poter ospitare persone che vengono da altri pianeti da altre costellazioni da altri sistemi solari quindi devono essere astronavi belle grosse per arrivare sulla terra com'è che in tutti i film fanno vedere il film di dipendenze dei astronavi visitors astronavi star trek astronavi e tanti altri film anche e predator con l'astronave com'è possibile anche in altri film che che hanno fatto vedere praticamente che dovevano utilizzare una sorta di sistema per poter trasferirsi da una parte all'altra del sistema solare il balzo interspaziale dovevano utilizzare tutti questi film astronavi non che la persona usano lo smolecolatore si smolecolano gli alieni da una base e si ritrovano riemolecolati cioè si smolecolano e si riemolecolano nell'altra parte del mondo cioè nell'altra parte dell'universo queste sono delle bufale che si sono inventati ma noi per andare sulla luna dobbiamo prendere i razzi ma che voi pensate che gli alieni se partono dal loro pianeta si smolecolano si rimolecolano no devono prendere anche loro i razzi quindi dovete essere coscienti o astronavi con motori magari antigravitazionali e non è possibile che questi vengono sulla terra o dall'altra parte dell'universo vi creano l'adduzione aliena a distanza ma lo sapete che per pilotare o per trasmettere dei dati da dalla 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 terra su marte passano minuti e l'ultimi robot l'ultimo robot che hanno mandato su su marte deve camminare lento perché loro in tempo reale devono mandare il segnale e ricevere il segnale di quello che sta facendo il robot come è possibile che l'alieno da 10 mila anni luce 20 mila anni luce 30 mila anni luce di distanza in tempo reale ci parla in testa e ci parla in italiano ci parla in in dialetto bergamasco e ci parla il romanaccio e non lo sentiamo perfettamente quando quando parliamo con lui a ma che mi stava mi sto mettendo l'impianto ti sto facendo quali sto facendo la ma non avete capito che sono bufale sono delle bufale simulano per farvi credere che voi siete impiantati dagli alieni io vi dico che questi impianti è una bufala dei servizi segreti deviati per giustificare lo stato di risveglio ipnotico del sistema del controllo mentale mk ultra del sistema del manchurian candidate lo fanno apposta questo questo del sistema monarch lo fanno apposta questo perché mentre voi venite pilotati attraverso questo sistema di controllo mentale voi venite sottoposti a determinati lavaggi del cervello con perdita della memoria temporanea la stessa cosa che succede alle vittime del controllo mentale noi abbiamo visto tutti i video delle vittime del controllo mentale e i video fatti dalle persone che dicono di essere addotte sono gli stessi identici spiccicati com'è possibile scusa se le vittime del controllo mentale dicono che sono militari che parlano in testa di basi che gli arrivano comunicazioni che gli arrivano avvenimenti che stanno accadendo com'è possibile che invece altre persone che credono agli alieni no non sono militari sono sono alieni che mi parlano in testa ma l'alieno come te parla in quale lingua nella lingua italiana e com'è possibile scusa dall'altra parte dell'universo ci sono persone che parlano la lingua italiana o la lingua in inglese o in francese ma quelli magari parleranno in altri tipi di di modi anche suoni con con magari solo vibrazioni sonore o qualcosa del genere invece no no quelli sono alieni che vengono sulla terra si imparano per c'è spadano si imparano il il veneziano si imparano il milanese e ve parla non testa con con questo sistema mi pare strano no è più facile dire che qualcuno sta sperimentando la tecnologia di controllo e manipolazione mentale attraverso stati ipnotici così voi quando la mattina vi svegliate non vi dovete ricordare di quello che è successo perché se voi vi ricordate vuol dire che la macchina che deve bloccare i vostri ragionamenti logici e farvi perdere la memoria temporanea non funziona perché voi vi state ricordando di tutto quello che è successo durante la notte com'è possibile che le vittime del controllo mentale e io veniva attaccato dalle 3 di notte fino alle 6 di mattina com'è possibile addirittura hanno detto dio l'ora di satana 3 3 3 l'ora di satana le 3 33 partono in questi programmi di controllo e di manipolazione mentale no non è un programma di controllo e manipolazione mentale non sono i militari che ti stanno a parlare in testa io mi facevano vedere delle immagini di persone vestite di verde e che vuol dire sui rettiliani sui rettiliani non so militari la divisa militare non è vero mi facevano vedere immagini di persone vestite di grigio a chi sono questi questi sui grigi addirittura sui grigi o ma tutte ste razze italiani che vengono sulla terra ma non c'è un'astronave non ci sta niente che viene ripresa attraverso telescopi di radio ammatori che sono milioni intorno alla terra che riprendono in continuazione con telecamere in 4k in continuazione fanno le riprese su tutte le parti del cielo esistente in tutte le parti del mondo e nessuno che prende un filmato in 4k di astronavi che arrivano sulla terra nessuno prende prende questi filmati ma guarda che strano veramente strano però milioni di persone dicono che sono addotti dagli alieni perché gli alieni arrivano e gli mettono questi impianti all'interno della testa oppure gli fanno credere che loro vengono presi da casa li portano in un'astronave pensa che bufala che gli hanno creato un testa a sti poveretti sotto controllo mentale attraverso il sistema mk ultra militare non alieno militare e gli creano dei sogni in realtà virtuale ma com'è che i sogni degli addotti sono sempre uguali sono sempre gli stessi che li prendono che li portano all'interno del posto poi li riportano un'altra volta all'interno dell'appartamento perché alcune persone che avevano le telecamere a circuito chiuso dentro casa e ci hanno tutta tutti gli orari che sono avvenuti questi avvenimenti non riprendono niente e la persona sta dentro al letto e sta dormendo tranquillamente come è possibile è più facile con il controllo mentale il sistema mk ultra sparare delle frequenze all'interno del cervello per immettervi dei filmati a realtà virtuale attraverso lo stato del dormiveglia perché loro conoscono come crearvi delle suggestioni attraverso il controllo mentale non che arriva l'alieno e vi mette in tester chip o arriva l'alieno e vi parla e vi parla e vi parla e vi ballo l'adduzione allieva oppure tanta gente sono gli angeli che vengono da me e mi parlano quell'altra tutti i giorni parlo che demonico con gli angeli con le entità spirituali ma non avete capito che voi non parlare con le entità spirituali voi parlate con un computer voi parlate con militari che vi stanno facendo lavaggi del cervello per il controllo mentale tutte le bufale che SMT dell'adduzione aliene parliamo con gli angeli è Satana sono entità estracelesti sento delle sensazioni sono i morti che mi vengono a parlare ma non avete capito che cos'è è il controllo mentale MK Ultra ho fatto centinaia di studi centinaia interviste di testimonianza che le trovate da tutte le parti e parecchie persone che dicevano e credevano che queste persone venivano adotte da queste entità d'aliene si sono ricredute hanno detto c'hai ragione te ma quale adduzione aliene questi vengono manipolati con il controllo mentale e gli fanno credere che sono adduzione aliene o gli fanno credere che sono manipolati attraverso il controllo mentale MK Ultra o gli fanno credere che hanno dei disturbi fisici e psicologici derivanti determinate presenze soprannaturali ma quale presenze soprannaturali ma quale presenze soprannaturali io perché sono espertissimo di questo sistema me l'hanno fatta di tutti i colori mi facevano credere che era arrivato Satana che si era messo vicino al letto con me e ho detto ancora queste frequenze ancora queste stupidaggini mi facevano sentire la pelle che diventava calda poi diventava fredda poi avevo le sensazioni delle vibrazioni mi si alzavano tutti quanti i peli mi diventavano elettrostatici i capelli poi i capelli riscendevano giù poi mi facevano sentire delle voci in testa poi mi facevano sentire il bacetto sulla guancia non avete capito come funziona il sistema del controllo mentale il sistema del MK Ultra ma ancora non avete capito come funziona io prendo un elettroencefalografo che crea la mappatura celebrale e conosco perfettamente attraverso l'analisi che viene effettuata attraverso un elettroencefalografo trascranico nel nostro cervello tutte le sensazioni del corpo umano io ti metto l'elettroencefalografo in testa attraverso le radiofrequenze che si collegano ai due centri nervosi con un laser ad onda convogliata che spara una frequenza ben precisa ben mirata opero attraverso le frequenze infrasoniche biofotoniche e neuroniche dei centri nervosi ho tre collegamenti amplifico tre sistemi differenti di arma ma con la stessa identica sintomatologia o con la stessa identica patologia si amplifica nel tuo cervello attraverso la risonanza sensoriale che penetra attraverso il nostro corpo e il giochetto è fatto è una tecnologia da 100 miliardi di euro non è che è una tecnologia che la trovi per strada o la trovi su Amazon la tecnologia più avanzata esistente a livello mondiale è una delle più segrete a livello mondiale tanto ho fatto tantissime denunce 26 denunce ho denunciato questo sistema di controllo e di attacco attraverso queste armi all'energia diretta ad onde convogliate e se questa tecnologia viene data agli angeli custodi cioè persone che possono utilizzare la tecnologia per aiutare e salvare la popolazione creiamo miracoli io mi ritengo un angelo custode io creo i miracoli per aiutare le persone ma se la dai a mafia militare questa tecnologia o a terroristi militari secondo voi che creano questi? persone malate demente che gli fanno credere che vengono addotti dagli alieni persone che vengono manipolate col controllo mentale e gli fanno credere che è satana che sono le legioni di satana che sono entità spirituali o extra spirituali che li stanno attaccando con questi sistemi gli fanno credere che sono stati sottoposti a rituali che sono stati posti a determinati rituali per la manipolazione perché le persone che vi stanno intorno sono tutte invidiose di voi ma che gliene frega alle persone che vi stanno intorno adesso è invidiose di voi questi gli interessa collaudare delle armi a energia diretta ad onda convogliata neurale una volta che viene fatto il collaudo su un milione due milioni tre milioni dieci milioni di persone a livello mondiale oppure nazionale europeo eccetera eccetera interessa che i risultati delle analisi che loro effettuano devono avere il riscontro da poter pilotare come una marionetta un individuo e non si deve accorgere di niente della manipolazione mentale della manipolazione del ragionamento della manipolazione delle sue sensazioni sul corpo attraverso queste frequenze che vengono sparate e vengono sincronizzate con i nostri centri nervosi e questo è lo scopo se io voglio attestare dei vaccini come faccio vado in Africa ho centomila bambini vi dovete fare il vaccino della malaria e magari su centomila vaccini cinquemila vaccini attesto è un'epotesi questa l'ebola attesto l'AIDS attesto la meningite attesto il coronavirus eccetera 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 su centomila bambini un cinque per cento che hanno degli effetti collaterali non vengono neanche calcolati è perché può accadere su centomila test il cinque per cento che non risultano proprio perfetti come test e chi dice che invece quelli non erano test per attestare il vaccino ma erano per attestare armi chimiche batteriologiche o armi che devono modificare determinati parametri del cervello per creare la sensazione neuronica o per creare dei disturbi che creano una lobotomia chimica per bloccare determinate frequenze che interagiscono con il sistema del controllo mentale è come se ci vogliono anestetizzare una parte del cervello per far sì che noi durante la notte durante gli esperimenti che noi ci fanno in stato ipnotico e narcoletico per la programmazione del nostro cervello noi non ci dobbiamo svegliare o si deve svegliare una parte del nostro cervello per far sì che diventiamo vigili ma perdiamo la memoria temporanea in continuazione perché noi facciamo determinati sogni e la mattina ce li ricordiamo e ci ricordiamo tutti i dettagli del sogno e molte volte noi sogniamo e non ci ricordiamo niente di quello che abbiamo sognato la stessa cosa è per la tizionadiera ma come gli alieni vengono dall'altra parte delle galassie vi parlano e voi vi ricordate tutto quello quello che vanno detto vi fanno ricordare tutto lo fanno apposta perché così voi andate poi dai vostri parenti dai vostri cari andate dai dottori o andate dai persone che conoscete oddio gli alieni la notte mi vengono a prendere ecco un altro pazzo un altro malattuto mente un altro fuori di testa vi mettono il timbro da psicopatico il timbro dello psichiatra e dopo da lì vi possono fare tutti gli esperimenti che vogliono perché tanto siete considerati pazzi siete considerati malattimemente siete considerati con mania di persecuzione e avete finito la vostra vita perché ormai siete cavie da laboratorio effettive se invece voi non ci credete a queste determinate cose non vi potranno mettere il marchio della bestia e quindi non sarete più attaccabili con questi sistemi tecnologici perché una volta che voi non ci credete più a queste determinate cose è inutile che vi rimettano nel cervello questi anticipogrammi come stanno facendo con me ultimamente mi stanno mettendo delle frequenze durante la notte che hanno messo già nel 2001 2002 2003 per vedere se adesso rilevo determinati parametri d'attacco pensate che io questa mattina mi sono dovuto alzare presto sono dovuto uscire fuori dal balcone e le frequenze delle radiazioni erano talmente forti che rilevavo l'attacco con l'arma di energia diretta satellitare addirittura fuori al balcone pensate un po' perché l'attacco e la manipolazione se viene fatta con le amplificazioni a pressione elettromagnetiche che rientrano nella risonanza sensoriale le frequenze diventano talmente elevate che praticamente non c'è più la possibilità di schermarsi in un determinato posto ma la frequenza viene talmente amplificata che le amplificazioni diventano talmente elevate che penetrano i muri delle stanze penetrano la zona dove noi stiamo perché il satellite non è perpendicolare alla nostra abitazione è sempre laterale perché la scansione del corpo deve essere fatta in diagonale non dall'alto verso il basso ma diagonale in modo che la persona può essere scansionata vi faccio un piccolo esempio questo è un individuo io se so sopra che cavolo vedo la testa questo è l'individuo il satellite sta qui io che faccio scansiono zoom 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 sopra come faccio che scansiono sopra il problema che queste armi penetrando i muri di casa penetrano anche all'interno della corrente elettrica della nostra abitazione le frequenze dell'elettro encefalografo trascranico non devono immischiarsi con le frequenze inalternata della corrente elettrica noi che siamo elettrosensibili e rileviamo determinati disturbi dei campi elettromagnetici che sono frequenze inalternata entrando nei nostri cervelli e sul nostro corpo creano gravissime anomalie i scienziati i militari lo sanno e siccome lo sanno ci attaccano ci torturano in continuazione per farci uscire fuori di testa e poi farci mettere questo marchio della bestia io vi dico che questi servizi segreti deviati loro collaudono e sperimentano per determinate società militari e paramilitari le armi che devono essere messe sui satelliti e si sono molto preoccupati anche l'intelligenza americana la difesa americana che infatti ha creato e sta creando l'interforce spaziale una sopra sopra istituzione militare una forza armata militare che deve operare solo ed esclusivamente con sistemi di sicurezza spaziali attraverso i satelliti ovviamente creare l'interforce spaziale si parla di creare una rete di satelliti che deve proteggere un'intera area geografica molto vasta come l'estate un'america e deve avere degli operatori che siano in grado di prevedere attacchi con armi satellitari o armi ad energia diretta da terra che possono essere montati sulle navi su dei droni ma droni militari parliamo di centinaia di milioni no il dronetto piccoletto che lo compri su amazon ma molte di queste vittime non riescono a capire quello che uno sta dicendo molte volte gli spieghi guarda che questi sistemi non possono essere acquistati semplicemente su e non riescono a capire quindi la bufala dell'adduzione aliena non può essere vera perché l'alieno non viene sulla terra con un'astronave per collegarsi nei vostri centri nervosi mentre state dentro casa e per parlarvi e fare dei test e delle sperimentazioni perché all'alieno non gliene può fregare di meno di fare questi test e queste sperimentazioni perché l'alieno se viene sulla terra al minimo sta 3.000 anni avanti cristo 10.000 anni avanti cristo di tecnologia quindi non gliene può fregare di meno essere alieno viene sulla terra viene con l'astronave ma un'astronave in grado da poter far sì che il pianeta dove loro provengono dove loro stanno deve dare la possibilità di far partire questa astronave ma le persone che stanno dentro l'astronave devono mangiare devono bere devono fare una vita normale si devono nutrire per arrivare sulla terra pensate che per arrivare su Marte ci vogliono 6 mesi 6 mesi andare e 6 mesi a tornare dicono che forse con un nuovo motore sperimentale ci metteranno 3 mesi andare e 3 mesi a tornare e ci sono una marea di complicanze per poter fare un viaggio del genere pensate che persone dicono che vengono addotte dagli alieni e tutti i giorni gli alieni vanno a casa loro partono l'alfa centaura 20 mila anni 10 mila anni luce 20 anni luce 30 anni luce 40 anni luce 50 anni luce e tutti i giorni arrivano lì a casa loro e si mettono lì a fare gli giochettini in testa tutti i giorni ma non è più facile prendere un sistema satellitare e sparare una frequenza addosso all'abitazione queste radiazioni creano queste allucinazioni audiovisive mentre stiamo in fase di dormiveglia è più facile fare questo allora com'è possibile che le vittime del controllo mentale i target individuals che vengono attaccati con queste frequenze hanno i stessi identici disturbi delle persone che dicono di essere adotte e dicono di essere impiantate perché hanno degli impianti all'interno del cervello che gli permettono di sentire l'alieno che gli parla a distanza dai su e dai su cioè bufale su bufale su bufale su bufale e allora non è possibile ma vi dico alcune mie teorie la terra cava ci stanno dicendo che ci sono basi segrete militari e paramilitari sotto terra dove operano per la sperimentazione e il collaudo di nuove tecnologie questo vuol dire la terra cava oppure stanno creando delle basi per eventuali esplosioni solari o eventuali meteoriti che potrebbero cascare sulla terra per creare una sorta di base bunker anche per far rimanere in vita la popolazione a livello mondiale perché se succede qualcosa devono ripopolare il pianeta e allora creano queste basi sotto terra e lì è la terra cava adesso parliamo della terra piatta la terra piatta non vuol dire che la terra è piatta che stanno appiattendo le frequenze del cervello che stanno appiattendo le frequenze della risonanza di Schumann e fatalità le frequenze della risonanza di Schumann corrispondono alle frequenze del cervello umano ma com'è possibile questo che il pianeta terra corrisponde esattamente a determinate frequenze e patologie del cervello perché hanno voluto camuffare le tecnologie di controllo e manipolazione mentale con la risonanza di Schumann attraverso le tecnologie ARP attraverso le tecnologie neurali attraverso i satelliti geostorm che stanno in tutte le parti del mondo per creare proprio questo sistema di controllo e di manipolazione di determinate frequenze neurali in determinate aree geografiche è più facile dire questo che non è l'alieno che viene sulla terra è l'alieno è l'alieno io vi dico che ho visto i filmati su youtube di un charlatano che chiede soldi alle vittime del controllo mentale o chiede soldi ai presunti addotti che non sono addotti quelle sono vittime del controllo mentale a presunte persone che sono possibili da entità quelle sono vittime del controllo mentale che credono o gli fanno credere che sono le entità che li stanno attaccando gli chiede 220 dollari per iniziare una un ciclo di terapia e 65 dollari se serve un supporto che devono essere aggiunti alle eventuali altri gruppi di ipnosi che lui che lui vi farà ma io non ho mai visto un'ipnosi tramite skype perché queste persone non usano determinate apparecchiature non usano l'elettroencefalografo non usano dei magnetometri per vedere all'interno della stanza che cosa succede durante queste ipnosi di regressa perché sono delle bufale addirittura hanno fatto ha fatto vedere lui che prendeva una persona stava a casa sua prendeva questa persona la teneva con la mano e gli diceva alieno vai via vai via vai via io ti brucio gli impianti che c'è all'interno del cervello ma dove sei mai vista l'impianta all'interno del cervello io te lo brucio con la forza del pensiero ma ve ne rendete conto che bufale su bufale su bufale su bufale ma se io volevo essere un vero truffatore io mi inventavo delle stronzate ma talmente grosse ma talmente grosse che eri fatto in modo che la vittima vieni da me ti levo tutte le patologie ti levo tutti gli impianti ti levo tutti i microchip che c'è in testa però per iniziare a fare questo tipo di trattamento che ti salverà la vita mi devi da 5.000 euro subito quelli te dicono 5.000 euro subito dice sì o se no gli chiedo subito 500 euro mi dite subito 500 euro e facciamo una seduta di terapia mi prende 500 euro mi invento un'ipnosi degressa mi invento che stai tramite skype io ti dico tutte parole tutte parole che ti rilassano fanno stare bene dici hai visto come stai bene adesso ah è vero è vero è vero adesso sto bene sto meglio poi chiudiamo l'ipnosi degressa la pubblico sui miei canali per farmi pubblicità e questa persona la manda allo sbaraglio dopo un mese due tre la persona magari mi ricontatta e mi dice oddio ma hanno riattaccato una torta mi dicono che sono alieni mi dicono che sono migliore quello no allora si vede che alcuni scippe non si sono distrutti con la forza del pensiero allora dobbiamo fare un altro ciclo di terapia rimandami un altro 500 euro quelli ci abboccano ci credono questa si chiama truffa truffare le persone come non sono in grado di fare questo non posso dire alle vittime che sono impiantate perché l'impianto non ce l'hanno che sono sottoposte a determinati sistemi di adduzione alieni perché non è vero non sono alieni sono militari che sparano le armi ad energie diretta in testa e non posso dire che sono delle entità perché non è vero invece gli altri creduloni che ci guadagnano con l'entità ci guadagnano con l'alieno ci guadagnano con l'adduzione aliena ci guadagnano con tutte ste bufale con la terra piatta la terra in ologramma eccetera 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 mi verranno contro le diranno no ma gli alieni ci sono sempre stati le adduzioni alieni ci sono sempre state mio padre era un ipnotista quell'altro entrava in trans con l'alieno ma quale trans con l'alieno magari tuo padre andava a dar trans ma gli dava 50 euro e il trans gli faceva quello che gli doveva fare il servizetto che gli doveva fare no che era l'alieno perché voi dovete incominciare a capire tra la bufala e la verità se ci sono persone anzi sfido le persone che dicono dell'adduzione aliena e che dicono di essere realmente sottoposti a stato ipnotico fatemelo vedere ci mettiamo all'interno della stanza io prendo le mie attrezzature vi metto l'elettroencefalografo riprendiamo tutto riprendiamo i miei monitor e voglio vedere se entrate realmente nello stato ipnotico e se veramente venite addotti e se veramente voi con l'ipnosi regressa gli dite che sono alieni e che cosa si riesce a registrare attraverso tutte le mie strumentazioni perché voglio vedere proprio questo se avete il coraggio fatelo se avete il coraggio io accetto questa sfida venite da me voi che dite che siete ipnotisti dei youtube vuoi venire da me vieni da me io ti porto una persona che è vittima del controllo mentale gli facciamo l'ipnosi regressa e io riprendo tutto analizzo tutto in tempo reale e ti faccio vedere che quella persona è sottoposta a controllo e manipolazione mentale attraverso radiofrequenze e non è un addotto da entità aliene se lo volete fare volete accettare questa sfida io sono a vostra disposizione contattatemi tramite vittime del controllo neurale chiocciolagmail punto com no aspettate aspettate c'è un errore c'è un errore scusate un secondo aspettate eh contattatemi direttamente su emiliano babilonia italia su messenger oppure aspettate un secondo eh aspettate un secondo ecco vittime del controllo mentale allora allora scusate eh vittime del controllo mentale allora un secondo solo eh allora c'è un errore c'è un errore scusate ok vittime del controllo neurale chiocciolagmail punto com mi scrivete mi dite che voi volete fare un'epnosi regressa io prendo una persona una vittima del controllo mentale e voi mi portate una persona che eh che dite che è una dotta vediamo se le stesse identiche sensazioni se le stesse identici disturbi se le stesse identiche patologie sono uguali e facciamo un'epnosi regressa io porterò un mio esperto di ipnosi regressa voi porterete un vostro esperto di ipnosi regressa io utilizzerò le mie attrezzature e il mio elettroncefalografo in tempo reale mentre farete l'epnosi regressa riprenderemo tutto tutto riprenderemo e poi pubblicheremo tutto su internet per vedere se ho ragione io se avete ragione voi voglio ricordarvi un'altra cosa visto che siete scritti sui miei canali sui miei gruppi di facebook però non vi siete scritti sul canale di youtube allora le persone che sono scritte sui miei canali di facebook si devono anche scrivere sul mio canale di youtube perché è inutile che ciò 15.000 persone scritte sui vari gruppi e poi su queste 15.000 persone scritte ce n'ho solamente mille iscritte sul canale di youtube se seguite le mie notizie o i miei canali dovete seguire anche il canale di youtube quindi iscrivetevi al canale di youtube angeli custodi mk oltre italia di emiliano babilonia oppure scrivetevi al mio secondo canale di youtube emiliano babilonia con la foto con l'occhio nero se mi volete scrivere direttamente tramite facebook come vi ho detto prima emiliano babilonia italia l'amicizia ve la to direttamente e una volta che vi ho dato l'amicizia possiamo parlare tramite messenger sto registrando le nuove interviste testimonianza delle vittime dei target individuals il quale queste interviste testimonianza verranno pubblicate successivamente all'ultima intervista che è stata messa che parla di una persona che è posseduta da entità demoniache ma noi abbiamo fatto capire a questa persona che non è possibile che le entità demoniache gli dicano delle cose che sanno solamente determinati tipi di reparti o tramite determinate tipi di intercettazione quindi c'è qualcosa che non quadra allora questo ragazzo siccome gli vogliono mettere il marchio della bestia e farlo sembrare impalato demente in passo schizofrenico poi che stanno facendo questi giochetti in continuazione io gli ho detto ma ti hanno mai fatto a te un TSO dici eh sì una volta mi hanno fatto il TSO perché che dicevi e parlavo di Satana hai capito qual è il problema una volta che c'è il marchio della bestia allora le fanno quello quello che vogliono tanto risulti malato demente e quindi allora non gliene può fregare di me e questo il ragionamento dovete essere superiori a chi vi fa questi attacchi e queste manipolazioni e non credere alle stronzate che loro vi dicono perché se credete alle stronzate che loro vi dicono voi avete finito di vivere la vostra vita quindi unitemi ai miei gruppi unitevi ai miei canali siamo tutti cavie elettro ingegneria clandestina unitevi ai miei gruppi e chiedetemi l'amicizia e poi andate su youtube e scrivetevi su angeli custode mk volt italia perché io poi vado a vedere le persone che sono iscritte su angeli custode mk volt italia e le persone che sono iscritte sui miei gruppi se voi non siete iscritti entrambi io vi cancello dai gruppi perché dico se te mi segui mi devi seguire anche sul canale di youtube non solo sul gruppo di facebook perché non è possibile se segui le mie teorie devi seguire tutti i vari gruppi tutti i vari i vari passaggi delle mie ricerche delle mie analisi che faccio in tempo reale l'altro giorno ho incontrato il regista Varo Venturi abbiamo parlato di alcune cose di alcuni futuri progetti e la cosa che a me mi interessa è far capire determinate cose alle persone anche facendo dei video diciamo video documentari film documentari sui target individual il progetto è grande ci vuole un sacco di tempo ma piano 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 stiamo arrivando a creare questo benedetto progetto target individual il documentario o il nuovo libro che scriverò che sto scrivendo l'abc del target individual quando si entra nel mondo parallelo quello che si deve fare una volta entrati nel mondo parallelo è come difendersi e proteggersi dai primi attacchi del controllo mentale attraverso ovviamente queste frequenze e queste patologie io ho salvato moltissime persone che hanno visto i miei video i miei filmati hanno detto non so pazzo insomma naturalmente mi stanno controllando con questi sistemi però purtroppo alcune vittime vengono talmente manipolate che credono solo alle stronzate e io non posso fare niente per risolvere il problema perché quando una persona che dici non so i zingari non so le galline non so i piccioni non è il cane che abbaglia non è il vicino di casa e il giorno dopo ti dicono no sono i zingari è quello è quello è quello è quell'altro allora sei una persona che non sei ma non hai la manipolazione mentale sei proprio malato in mente te perché se non riesci a capire che sono tutte bufale cioè allora io non ti posso più aiutare non posso fare più niente per risolvere il tuo problema e poi perché le persone che vengono attaccate con le armi ad energia diretta non deconvogliate come sono attaccato io ho fatto i test e l'analisi sono andato a casa delle vittime e vengono attaccate e lo controllo attraverso queste armi e queste tecnologie questi che dicono no non è lo zinga lo zinga lo zinga vengono attaccati con le stesse armi e con le stesse tecnologie come è possibile perché la manipolazione mentale è come l'addotto che sente parlare in testa se sente queste sensazioni e dice è l'alieno che mi sta facendo questo oppure vai in un cimitero te senti parlare in testa sei morti che mi stanno facendo questo oppure cammini per strada senti un qualcosa ed è morto per un incidente oddio le entità che sta avvenendo da me e questo è il giochetto che loro fanno quindi non dovete credere alle bagianate alle stupitaggini prima dovete riflettere una volta che avete riflettuto voi potete incominciare a capire che cosa realmente vi succede iscrivetevi al mio canale di youtube angeli custodia mk ultra italia perché dobbiamo diventare tantissimi per divulgare interviste e testimonianza scusate per salvare più persone possibili dal controllo mentale perché così le persone vedranno le interviste e testimonianza e cominceranno a capire che non sono pazzi e malattive ma che vengono sottoposti a queste sperimentazioni e collaudi di armi ad energia diretta ad onda convogliata un saluto a tutti amici da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia io sto andando sempre avanti con le ricerche sto andando avanti sempre con le analisi sto andando avanti con le collaborazioni sto sempre studiando tutti gli avvenimenti che accadono tutti gli avvenimenti che accadono alle vittime tutti gli avvenimenti che accadono anche nel mondo per capire studiare interagire e cercare un indomani di far modificare determinati errori forze del sistema o forze create appositamente da militari deviati per poter prendere miliardi di appalti su appalti su appalti su appalti per effettuare analisi celebrali con questi sistemi di attacco e di manipolazione della popolazione quindi un saluto a tutti da ricercatore emiliano babilogio su appalti di attacco